L'orona di bianco vestito. Dopo la manifestazione regionale a Venezia, il settore delle imprese legate agli eventi, matrimoni, in primis e in subbuglio, non lavorano da oltre un anno e all'arrivo della primavera, per eccellenza, la stagione delle cerimonie, vedono sfumare praticamente un altro anno di incassi. Ecco quindi che si stanno sondando tutte le opportunità per poter riprendere a lavorare in sicurezza. Siccome stiamo organizzando per appena possibile la riapertura degli eventi su delle ville completamente all'aperto, questo non tanto per fare fatturato, ma proprio per far ripartire un sistema, quindi nei parchi una giornata all'aperto, girando per queste ville, perché abbiamo fatto fotografie, siamo partiti dalla Villa Giola d'Oderzo per arrivare fino a Porto Toglio, quindi attraversando tutto il Veneto, io su quasi tutte le ville ho incontrato degli sposi che stavano girando per definire, insomma, perché molti, anzi quasi tutti, non hanno spostato i matrimoni quest'anno, li stanno solamente portando da maggio a luglio, piuttosto che agosto, stanno tutti tenendo duro se gli sposi vogliono sposarsi. L'idea è quella, non appena la situazione sanitaria lo consentirà, di organizzare eventi anche piccoli per sensibilizzare sulle difficoltà della categoria. Organizzare su tutte le piazze del Veneto un piccolo evento, ovviamente autorizzato dalla questura con gli addetti, che si siedono a un tavolo, che fanno un aperitivo per fare capire come si può lavorare in sicurezza. La necessità è quella di tornare a lavorare. Prima o poi bisogna trovare il modo di riaprire utilizzando sistemi di sicurezza. Noi questa cosa qui l'abbiamo detta più volte, perché dopo un anno risulta impensabile riuscire ad andare avanti con lo stesso schema di gioco, che è uno schema che è stato codificato all'inizio dell'emergenza. Bisognerebbe capire invece come, tenendo fermi due principi indispensabili, che sono evitare gli assemblamenti e garantire il sistema di sicurezza di distanza, di sicurezza tra le persone, possiamo via via tentare un'azione diversa, un'azione di riapertura.